Compariranno domani per la prima volta di fronte al giudice i tre dirigenti ANAS di Firenze, accusati di disastro colposo. Per l'accusa avrebbero infatti ignorato i segnali di cedimento precedente al crollo della piazzola lungo la E45 nei pressi di Pieve e Santo Stefano, venuta giù nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2018. È stata infatti fissata per domani l'udienza preliminare di fronte al GIP Fabio Lombardo. Il procuratore capo di Arezzo chiederà per tutti e tre il rinvio a giudizio. Secondo l'accusa infatti per anni sarebbero stati ignorati i segnali d'allarme. Già nel 2011, secondo la perizia affidata ad esperti, ci sarebbero stati segni di cedimento manifestati dalle crepe che si erano aperte sull'asfalto. Una situazione documentata anche da una foto pubblicata sul gruppo Facebook Vergogna E45. Le stesse fessure erano state poi segnalate da un cittadino anche nel 2014 a Danas. In quell'occasione la prefettura Aretina aveva sollecitato l'azienda a controllare e l'unico intervento disposto sarebbe stata la copertura superficiale delle fessurazioni. Sul banco degli imputati adesso Antonio Scalamandrè, il responsabile di Aria, il capocentro Rocco Oliverio e Massimo Pinelli, il caponucleo. A loro la procura contesta appunto di non aver effettuato interventi strutturali urgenti finalizzati a scongiurare una situazione di pericolo. Ai tre era stato inviato nel dicembre 2018 l'avviso di chiusura indagini, domani l'udienza preliminare.